Musica Bentornato Goodler, bentornata Andiamo a concludere la parte relativa all'account utente parlando ancora del pannello di controllo Ti porto a vedere la modifica delle impostazioni di controllo dell'account utente In pratica, cliccando su questa opzione andrai ad impostare o meno una notifica da parte del sistema operativo quando si verifica una ben determinata azione O nel caso in cui l'utente viene a modificare le impostazioni del sistema operativo oppure un programma tenta di installare un altro software o qualche altro parametro oppure questo stesso va ad eseguire modifiche all'interno del sistema operativo In questo caso tu tramite questa schermata potrai regolare questa barra in una di queste quattro posizioni e andare a richiedere una notifica da parte del sistema operativo quando si verifica una determinata cosa potrai attivare l'una o l'altra di queste notifiche e a quel punto un avviso a monitor ti proietterà, ti allerterà che è in atto quel determinato evento in modo che tu potrai discriminare se questo evento è derivato da una tua azione o da parte di programmi che possono essere programmi da te voluti oppure programmi che lavorano in background e quindi malevoli, nascosti, subdoli ti fornisce quindi un livello di garanzia che quello che sta accadendo è monitorato e quindi da te voluto o meno sta a te decidere se mantenere attivo questo livello di guardia oppure disattivarlo completamente Altra sezione è la gestione delle credenziali cliccando sul pulsante relativo avrai la possibilità di selezionare impostare meglio le credenziali di accesso ad eventuali cartelle condivise che sono ad esempio all'interno di una rete di computer oppure un servizio online che richiede l'inserimento di dati per poter accedere a questo determinato servizio nella schermata che si presenterà a te avrai la possibilità di gestire queste credenziali Se ad esempio hai creato una rete di condivisione tra vari computer e l'accesso a queste stesse reti a queste cartelle condivise avviene tramite l'inserimento di un nome utente e la password dovrai inserire ogni volta tali parametri Grazie alla funzione di gestione delle credenziali potrai inserire i dati riferiti all'accesso di questa rete inserendo una volta il nome utente e la password così potrai accedere senza dover inserire ogni volta queste credenziali di accesso L'inserimento della credenziale ovviamente avviene tramite una schermata tipica che ti permetterà di inserire il percorso di rete nel caso in cui stiamo parlando di una rete di condivisione il nome utente per accedere a questa rete che hai creato e la password dopodiché dovrai cliccare sul pulsante ok cliccando sul pulsante omonimo quindi abbiamo visto dalla schermata potrai selezionare quali tipi di credenziali inserire o in base ad un certificato oppure credenziali generiche che ti permetteranno di accedere al relativo pc o relativo servizio Nella schermata di gestione naturalmente potrai anche modificare i dati che hai precedentemente inserito qualora cambiassero o rilevassi qualche anomalia di digitazione oppure rimuovere queste credenziali Personalmente io sconsiglierei l'accesso diretto da parte del profilo in essere per un discorso di sicurezza è preferibile magari impiegare un po' più di tempo nell'inserimento ad ogni accesso di id utente e password ma avrai la certezza che almeno sono io utente o sarai tu utente che andrà ad inserire questi parametri qualora dovessi accedere alla rete eviterei per così dire quindi l'accesso sempre aperto sempre online a questi servizi o ad una rete a meno che non sia tu stesso o non sia tu stessa a dover accedere a diverse postazioni e all'interno della stessa rete quindi come unico utente una cosa che potrebbe tornarti particolarmente utile è la creazione del disco di rimpostazione della password ti ho detto che è possibile inserire una password per poter accedere al sistema operativo o singolarmente o in base ad n profili che andrai a creare potrebbe accadere che tu abbia dimenticato la password di accesso beh allora puoi realizzare questo disco di rimpostazione password in modo che qualora tu l'abbia dimenticata ti permetterà di accedere al sistema operativo sfruttando proprio questo file che avrai creato la cosa importante è che una volta che hai creato questo disco che poi vedremo potrà non essere necessariamente un disco fisico comunque una volta creato questo file a prescindere da quante volte andrai a cambiare la tua password di accesso al sistema operativo non dovrai crearlo ad ogni cambio questo file come appena detto potrà essere sia memorizzato su un supporto ottico sia inserito su una pendrive su un dispositivo USB durante la procedura ti verrà chiesta all'atto della creazione la password attuale quindi quella presente in quel determinato momento al termine della procedura avrai creato questo file o all'interno di un disco o all'interno di una periferica USB una nota di sicurezza al termine dovrai considerare questo file come dato sensibile in quanto chiunque ne venga in possesso avrà la possibilità di accedere al sistema operativo anche non conoscendo la password di accesso che avrai creata come avviene l'utilizzo di questo file all'atto dell'avvio del sistema operativo dovrai digitare la password se non la ricordi ovviamente l'avrai sbagliata il sistema te lo notificherà e ti comparirà un pulsante chiamato reimposta password cliccaci pure sopra e dopo aver inserito la chiavetta USB oppure il disco si avvierà la procedura per il ripristino della password all'interno della quale dovrai digitare la nuova password che ti permetterà di accedere al sistema operativo e contestualmente avrai cambiato la password di accesso al sistema operativo stesso ora ti darò una rapida descrizione di altre funzioni che troverai presente in questa sezione senza entrare troppo nei particolari in quanto per me è troppo complessa la gestione a questo livello una opzione che noterai all'interno del pannello di controllo è collegare l'ID online cosa significa ti permetterà di collegare il tuo account presente in questo determinato momento il tuo account il tuo profilo Windows ad un identificativo internet ossia ad un servizio questo collegamento ti permetterà di facilitare la condivisione dei file e la connessione ad altri computer che costituiscono una rete di computer l'ID online rappresentano le credenziali di accesso ossia il tuo nome e la tua password credenziali che ti serviranno per accedere ad un servizio online come ad esempio potrà essere quello della posta elettronica collegando quindi questo tuo account al tuo indirizzo di posta elettronica potrai implementare le funzioni di condivisione e connessioni all'interno di una rete permettendoti tra l'altro di accedere anche a flussi di file multimediali come possono essere immagini audio e video sfruttando la connessione ad internet in pratica potrai realizzare una rete che ti permetterà anche lo streaming di file multimediali tra un computer principale ed un altro computer molto distante anche dal principale altra opzione che troverai all'interno di questa sezione del pannello di controllo è la gestione dei certificati di crittografia dei file è in pratica una funzione integrata nel sistema operativo che potrà tornarti utile per archiviare dei file crittografati e memorizzarli sul tuo disco rigido per realizzare ciò è necessario possedere un certificato di crittografia e di conseguenza anche la corrispondente chiave di decrittografia per poter naturalmente visionare i file crittografati il certificato rappresenta un qualcosa che documenta quindi appunto scientifica l'identità e l'autenticità della persona o del mezzo che fornisce un determinato servizio come può esserlo quello della firma digitale oppure un sito un provider quindi si etichetta che quel determinato servizio viene fornito con assoluta certezza da un qualcosa o qualcuno ben identificabile che dia garanzia insomma tale certificazione deve rispecchiare dei canoni e non ha valore assoluto ed illimitato nel tempo infatti questi certificati possono scadere oppure non essere più validi se in precedenza invece lo erano proprio perché possono variare i canoni di certificazione altra opzione presente all'interno della sezione account utente del pannello di controllo è configurare la proprietà di un profile utente esperto quando si accede con un account al sistema operativo lo si fa tramite un profilo che potrai personalizzare nel momento in cui l'avrai creato queste impostazioni vengono archiviate in determinate posizioni se utilizzi tu personalmente diversi computer potrai creare per ogni computer un profilo diverso però potresti anche creare un profilo diverso e replicare tutte le metodologie che attui per ogni singolo computer ma per semplificare potresti creare invece un unico profilo standard ed esportarlo in ogni macchina e in ogni sistema operativo questo per facilitare la gestione del tuo profilo senza doverlo ricreare ad ogni nuova apertura di ogni postazione o profilo altra sezione particolarmente difficile da comprendere è la modifica variabili d'ambiente questa sezione ti permette di creare modificare o eliminare una variabile utente relativa all'account che ha creato per accedere al computer oppure una variabile del sistema operativo la variabile d'ambiente è in realtà una stringa quindi una serie di numeri caratteri e lette che contengono informazioni del sistema operativo e dell'utente che ha effettuato l'accesso quindi sono dedicate queste variabili le modifiche possono essere apportate allora al profilo utente o al sistema operativo queste informazioni vengono utilizzate da alcuni programmi per determinate funzioni come ad esempio all'interno del sistema operativo per individuare la posizione di determinati file quali possono essere quelli temporanei una situazione del genere l'abbiamo affrontata nella lezione 95 quando ti ho fatto vedere come variare e in quale posizione variare una variabile d'ambiente per poter visionare i dispositivi nascosti durante la trattazione dei driver bene andiamo a vedere un paio di impostazioni per quel che riguarda il pannello di controllo in particolar modo come abbiamo già accennato all'account utente andiamo a vedere come modificare le impostazioni di controllo dell'account utente quindi clicca pure su questo pulsante potrai far scorrere questa barra in una delle quattro posizioni a ognuna delle quali corrisponderà l'attivazione o meno di una notifica oppure entrambe in modo tale che il sistema operativo ti notificherà quando un programma tenta di installare programmi o eseguire modifiche al computer stesso oppure quando l'utente modifica le impostazioni di Windows in questo caso cliccando su ok avremo fatto acquisire questa nuova impostazione dal successivo riavvio qualora tu volessi cambiare alcune impostazioni o avviare l'installazione di un programma una notifica al centro dello schermo ti indicherà che qualcosa sta tentando di cambiare alcune impostazioni all'interno del computer sarai tu che potrai visionare maggior dettagli ed eventualmente consentire o negare tale possibilità così facendo avrai la notifica che quello che si sta eseguendo è derivato da una tua azione oppure no un modo per allertarti in questo caso dicendo con sì avremo la possibilità di cambiare le impostazioni precedentemente assegnate un'ulteriore conferma di questa modifica è richiesta affinché venga portata a termine la gestione delle credenziali ti permette di aggiungere delle credenziali per poter accedere ad esempio ad una rete di computer o meglio ad un altro computer facente parte di una rete qualora fossero attivate le condivisioni tramite le credenziali di accesso di utente e password qui trovi già evidenziate delle credenziali che ho impostato quando ho creato la mia rete di computer per accedere al notebook come puoi vedere puoi modificare le credenziali di accesso al computer oppure rimuoverle definitivamente qualora tu voglia aggiungere altre credenziali non dovrai far altro che selezionare questa opzione oppure se sono generiche inserire parametri relativi alla rete oppure all'indirizzo internet che richiede le credenziali di accesso come nome utente e password dopodichè cliccare su ok ricorda che a mio avviso è sempre meglio evitare questi accessi immediati per un discorso legato alla sicurezza andiamo a vedere un'altra cosa che ti potrà sicuramente tornare utile nell'utilizzo quotidiano è la creazione di un disco di reimpostazione password clicca su questo pulsante si avvierà una procedura guidata molto semplice e rapida che ti permetterà di creare un file che potrai utilizzare qualora dimenticassi la password per accedere al sistema operativo dalla prima schermata clicca pure su avanti in questo caso io ho inserito un app and drive all'interno di una delle porte usb cliccando su avanti dovrai digitare la password presente in quel momento ossia nel momento in cui crei il file di reimpostazione della password dopo averlo inserito clicca pure su avanti e si avvierà la procedura di creazione di reimpostazione password al termine quando il sistema operativo avrà completato clicca pure su avanti per terminare la creazione del file di reimpostazione password ricordati di etichettare questa pendrive o altra periferica con la sigla di reimpostazione password e conservala in un luogo sicuro in quanto come detto in precedenza qualsiasi persona qualsiasi utente attinge a questa chiavetta o a questa periferica avrà l'opportunità di accedere al tuo profilo pur non conoscendo la password in essere ti rimando alla prossima lezione per continuare questa maratona sul pannello di controllo ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto